Dovevamo essere magari più furbili in quegli ultimi minuti e gestire quel vantaggio che avevamo. Sicuramente in questo momento saremo più sereni e contenti di una vittoria che ci manca, che sicuramente era molto importante per noi, ma purtroppo andiamo a casa tristi perché abbiamo buttato via due punti che in questo momento ci sarebbero tantissimo. La squadra le prestazioni le fa, i risultati non ci stanno accompagnando e questo è un dato di certo. Dobbiamo lavorare per continuare a fare delle belle prestazioni, anche delle brutte, ma con qualche risultato buono per noi. Sicuramente in questo momento passerà i risultati arriveranno perché la squadra fa bene, si allena bene, stanno bene tutti. Anche alla fine il mercato ci ha dato tranquillità e certezza e dobbiamo partire da questo, delle buone prestazioni che stiamo facendo, magari gestendo meglio in campo le situazioni. Grazie a tutti.